Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto categorie ORAC DECORCY 250. Stucchi decorativi in poliuretano polistirolo espanso rigido. Stucchi pregiati con profilo decorativo, mesticati. Leggeri, mantengono la loro forma e dimensioni, molto resistenti. Polistirene solido. Incollaggio. Per giunture e tagli obliqui si utilizza ORAC DECOFIX EXTRA. Per l'incollaggio di stucchi alle pareti e soffitti si utilizza ORAC DECOFIX PRO. Per montaggi esterni e in ambienti umidi si usa ORAC DECOFIX IDRO anziché DECOFIX PRO. La colla può essere ordinata separatamente nel nostro negozio online. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon E.T. Clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.